Ciao a tutti. Per me è un ritorno a Lucca. Sono stato già due volte, ho fatto due seminari anche lunghi, quattro ore mi ricordo e quattro ore un altro giorno. Quindi saluto chi mi ha già conosciuto e chi oggi è per la prima volta qui con me. Ho difficoltà a cominciare, in particolare oggi, perché c'è stato il decennale che ha rivolgato Andrea dell'Aquila e quindi si sono suscitate riflessioni, tante riflessioni, che poi vanno a confortare quello che sono state riflessioni successive con il terremoto dell'Italia centrale, cioè del 2016. C'è un continuo, adesso questi terremoti sono vicini, poi c'è stato anche quello dell'Emilia, c'è un continuo accumularsi delle esperienze e quindi stavolta di conferme. Conferme, poi conferme sempre per l'alimentazione del dubbio che è quello che stiamo divulgando, perché la certezza, voi sapete che stabilità è assolutamente statica e il dubbio invece è dinamica e proiezione. Quindi c'è questo momento di riflessione forte. Ci domandiamo e nasce l'aspetto sociologico del terremoto e della ricostruzione. Vedete il tempo è cambiato, sono cambiati i tempi già dal 97 ad oggi. Dopo 10 anni, vedere il 30-40% delle ricostruzioni degli edifici ricostruiti e una percentuale molto bassa degli edifici pubblici, anche delle chiese, ricostruite fa capire che questo processo è lunghissimo e che il bambino che aveva 10 anni e oggi ha 20 anni e che oggi si va a Londra con 40 euro e che l'idea di un movimento che poi oltretutto è anche alimentato da, voi sapete, da questa trasmigrazione nostra, dei nostri colleghi, noi, dei giovani, perché c'è poco da fare, quindi già c'era un fin di conto una mezza proiezione. Faccio un altro esempio, il terremoto di Norcia 1979, poi c'è stato quello del 97 e poi questo adesso del 2016. Bene, io ho amici che sono stati otto anni dentro un container. Avete presente il container? Non quelle adesso le casette che hanno tutto ben messo e c'è il container, quelli di cantiere, quelli con la paretina così, poco coibentata. Tre ragazzi che con i due genitori hanno vissuto per otto anni lì dentro. Poi le loro case sono state consolidate bene e poi vedremo, però hanno avuto altri danni. adesso sono riusciti di nuovo. Questo aspetto è un aspetto che mal si confà al processo di una persona che ormai non si radica ma sta fuori. Il terremoto di Italia Centrale, oppure anche quello del 97, ha portato persone, per esempio dalla parte dell'Abruzzo e della scolana, persone sul mare. Centri come Arquata del Tronto non esistono più, Pescara del Tronto non esistono più, sono ragazzi al suolo, vi farò vedere. E queste persone sono andate sul mare, e sapete il tronto, un'incisione, quindi c'è anche una difficoltà di vita prima, quindi non ci ritornano più. E allora il concetto, e qui chiudo questa produzione che è stata emotivamente suscitata da Andrea, il concetto è questo. O pensiamo, primo, ad una, lo sappiamo, ad una previsione, ma quindi, insomma, quello lo vedremo, ma o pensiamo di fare una ricostruzione che sia veloce, altrimenti la ricostruzione è assolutamente qualcosa di sfacente dal punto di vista, o qualsiasi terremoto dal punto di vista sociale. Perché queste, perché le persone con domani, ancora non si sa quali saranno le ricostruzioni, i piani di costruzioni, come l'hanno fatti, io faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico per il terremoto, perché è un commissario straordinario, e si sono fatte le linee guida di come ricostruire queste, ormai questi paesi, ormai erasi al suolo. Al quadro del Tronto è stata, diciamo, ha ospitato un film famoso di Celentano, che si chiamava Serafino, e si vedevano questi vicoletti, queste cose, non c'è più niente. Quindi come ricostruire queste case? Ancora non si sa niente. Se verrà fuori una cinecittà, una cosa nuova, quali sono le... quindi è un discorso molto particolare. Noi ingegneri abbiamo un grande ruolo, secondo me, che è quello ormai più versato alla prevenzione, e qui parlava il Presidente, dei luoghi che accoglieranno inevitabilmente un altro terremoto, adesso vi farò vedere delle cose, e quindi questa... accoglieranno questi luoghi. La prevenzione è importante, ma adesso la cosa più importante è questo nuovo paradigma che abbiamo tirato fuori, che è quello appunto della valutazione anche della componente verticale del sisma, che finora è stata sempre, come dire, accennata, curata per alcune parti molto rare dalla normativa, rare intendo dire luci oltre 20 metri, sbalzi di 4 metri, oltre 4 metri, pilastri in falso, ponti, eccetera. Quindi cose che non si adattano alla nostra edilizia spontanea, va assolutamente fuori. Invece adesso sì. Adesso si progetterà con questo sisma verticale, cioè con la componente negativa del sisma, è entrata nella normativa e abbiamo portato avanti questo paradigma. Ora consentitemi un secondo, farò vedere alcune immagini, sempre nella logica dell'emotività, farò vedere alcune immagini della... Allora, scusate per il caos, vediamo un po', eh. guardate, questa è l'immagine dell'Italia dei terremoti del 2016, mi slaccio la cravatta, fra un po' toglierò anche la giacca perché fa caldo qui dentro. Questo è il 2016, terremoti che vanno, poi vedremo meglio da altre diapositive che sono migliori, che sono spiegati con queste geometrie da 2 a 2,9, da 3 a 3,9, da 4 a 4,9. Voi vedete che in un anno abbiamo avuto, a parte questa oltre 5, no? Che è quella dell'Italia centrale. Beh, insomma, questa è la distribuzione solo di un anno dei nostri terremoti. Dalle nostre parti abbiamo qualcosa che ci interessa, come vedete non è che ci lascia molto, la dorsale appenninica è qualcosa di significativo dal punto di vista sismico, cioè questa trazione, questi segmenti che chiaramente si si assestano e quindi le faglie e le successive si ricompongono in una loro logica geometrica, poi in fin dei conti. Ma guardate la successiva, questa per esempio è il catalogo parametrico di terremoti italiani, e qui hanno avuto convergenza un po' la storia dagli archivi dei terremoti. Beh, allora, da 7 in su sono praticamente da queste parti, la Calabria, sono state a fare seminari nelle città, nella provincia della Calabria, beh, insomma, è la peggior messa. E qui siamo sempre, come sappiamo, dalle nostre parti, abbiamo un 6, 5, 6 e 9 nella storia. Insomma, bei terremoti. Ma poi c'è un fatto di continuità, perché vedremo che io affronterò un tema che si chiama memoria del danno, è un altro discorso del paradigma. Cioè, che cosa vuol dire? Che una serie di terremoti da due, poi in realtà compongono un terremoto più grande, nel senso che le nostre strutture non hanno un'elasticità, un'elasticità molto limitata, le nostre strutture accumulano deformazioni, sempre. Non è che abbiamo questa elasticità, quindi ha superato un terremoto e supererà anche altri 10 terremoti. Non è vero, c'è un accumulo della deformazione. Quindi il concetto di duttilità, di cui tratterò oggi pomeriggio, è un concetto che in realtà di costante non ha nulla. La duttilità va in depauperamento man mano che i sismi continuano. Quindi il continuare di sismi vuol dire continuare l'alterazione della struttura. Non c'è niente da fare. Ma poi, concettualmente, non si capisce perché la mia automobile poi alla fin fine deteriora, la mia maglia della porta deteriora e una casa al seguito di un dinamismo non deteriori. Rimanga. Ho sentito dire cose pazzesche. Sì, però, sotto i tre, magnitudo, va bene. Ma che vuol dire? Non ha una logica. Non ha una logica nell'ambito del concetto di fatica, nel concetto di isteresi. L'isteresi è qualcosa che si analizza quale patologia nella medicina, nell'economia, lo sappiamo benissimo, che vuol dire ereditarietà. Perché nel nostro fisico o comunque in tutto ciò che è deteriorabile la fatica e l'isteresi hanno una funzione? Nelle costruzioni no. Quindi, quando si entra in un ambito che ha ricevuto un sisma, si vedono lesioni, questa è una lesione lieve, l'edificio può superare altri sismi dello stesso tipo e si va via. Ecco, tenete presente un altro concetto, che il terremoto attuale, quello dell'Italia centrale, non è terminato. Però il terremoto attuale ha avuto otto manifestazioni oltre cinque, di cui uno a sei, sei e uno quella di Amatrice, la prima, 300 morti. E poi sei e punto cinque quella di Norcia, zero morti. Poi vedremo perché. Bene, questa è quella che rimane nella nostra testa. Questa è la convinzione che il terremoto sia questo. In realtà non consideriamo il fatto e quindi entriamo, guardiamo, verifichiamo qual è il danno, eccetera. Voi pensate, adesso il numero esatto non lo so, ma siamo nell'ordine di grandezza, tra i 90 e i 100, da 3 a 4, 4 e mezzo. Quindi 100 scosse di quel genere lì, 100 scosse che hanno una loro caratterizzazione dal punto di vista fisico, reale, dal punto di vista del danneggiamento. Se venisse da sola ne sono state 100, ma poi ce ne sono state 100.000 da 2. 100.000 da 2. Allora è un terremoto, è una vibrazione continua, i nostri edifici vengono scoprati continuamente. Bene, queste cose sono in accumulo del danno. Quindi, e poi vedremo ancora la seconda prolusione, noi dovremo pensare a che cosa? Non tanto a quello che è l'effetto di una lesione, ma capire se le nostre murature sono ormai adatte globalmente, localmente anche forse, se sono adatte ancora come elemento fisico da poter essere modellato. Cioè una muratura è modellabile solo se ha una costituzione fisica che possa accogliere le sollecitazioni, che possa accogliere la modellazione fisico-matematica, altrimenti non è modellabile. Cioè se la muratura, adesso metto un altro termine, si disgrega come avviene realmente quando si muore, si muore sotto la disgregazione, se la muratura si disgrega io non posso modellarla. È inutile che io ci faccia l'analisi pushover, grazie. È inutile che si ci fa, cioè non è nulla. E invece noi non ce ne interessiamo. Noi facciamo un discorso solo di quante lesioni ci sono. Se la lesione è larga un millimetro, due, tre, e qui come si allargano le lesioni, si allargano anche le tipologie del danno verificato. L0, L1, L2, L3, L4. Oppure A, B, C, D, E. F è danno temuto. Ci siamo? Oh, adesso ci addormentiamo? No. Va meglio così, vero? Allora, quindi queste cose oggi saranno trattate in questa maniera, nel capire che cosa noi facciamo da ingegneri, qual è il nostro ruolo nel verificare lo stato di salute. E allora, per capire come noi possiamo applicare la nostra fisica, cioè se io avessi messo, questa è una cosa nuova, se io avessi messo sul mio piano inclinato di fisica 1, quando si schiava, un qualcosa che si disgregava durante la, sarebbe disgregato durante il percorso sul piano inclinato, non avrei mai e poi mai valutato l'effetto fisico previsto e empiricamente verificato. Allora, ancora, ripeto, la facciamo insieme questa lezione, andrò avanti così. Guardate, questa è la mappa dei terremoti dall'anno 1000, anche questa è testimoniata, quindi sarà sicuramente inferiore a quella reale. Ritorno a voi, come vedete c'è un nero da quelle parti e siamo un blu scuro, si vede bene? Ecco, quindi ecco poi qui ci sono le magnitudo, no? E ci sono le accelerazioni al suolo, eccetera. Ecco, allora, perché faccio inizio con questo, poi ci addentreremo bene? Chi mi dà poi il tempo? Andrea sei andato? Mi dai tu il tempo? Ecco, ecco, grazie. Allora, perché ho voluto cominciare da questo? Perché questo è veramente un argomento importante, si dice che Lucca è la città delle cento chiese, e è un argomento importante. Vedete, questo è il risultato del censimento dei danni, 1260 delle chiese, poi questa è la distinzione delle varie regioni, oh, di queste la metà è a terra, a terra vero, veramente. Adesso faremo un minimo di escursus. Questa è la chiesa di San Benedetto, quella che ha fatto scalpore, ma non era come la basilica di Superiore di Assisi, che poi quasi il crollo nel 97 e suscitò tanta emozione. Qui no, qui l'abbiamo vista a terra, a fine dei giochi. Questa è di San Benedetto, prima del terremoto, quindi al giorno prima. La struttura, come vedete, è una struttura semplice, anzi, direi che poi alla fin fine ha le capriate, una situazione strutturale abbastanza, cioè, assolutamente ottimale, però come tutte le chiese è un parallelepipido, oppure se ci sono navate, tre navate, è ancora più complessa la cosa, è un parallelepipido vuoto. Essendo vuoto non ha, chiaramente, i rigidimenti interni, come l'edificio, come sappiamo noi, e quindi è la parte più vulnerabile delle nostre strutture. Questa è molto alta, sono alte, in realtà, quindi il carico è solamente in alto, quello che governa un pochino il meccanismo, e queste sono le cose che sappiamo dalla nostra tecnica, scienze, eccetera, che sappiamo. Questi sono altari ricavati all'interno dello spessore murario, quindi, voglio dire, alla fin fine c'era ancora un minimo di incertezza, perché poi sono pilastri, perché poi il resto è vuoto, non c'è continuità, insomma, ecco. Però alla fin fine la copertura con capriate mi dà un minimo di sicurezza dal punto di vista, non ci sono archi, quindi che spingolo, se non, adesso qui siamo dalla parte dell'altare, no? Se non l'arco trionfale dell'altare. Ma insomma, questo è quanto. Questo è il dopo. Questo è il dopo. Allora, senza voler suscitare emozioni, questa è prima e questa è dopo, però la cosa che dobbiamo noi cominciare a, sul quale dobbiamo ragionare, è questa. Se ci avessero detto di questa chiesa, se dovesse venire un sisma, come si comporterebbe? Noi avremmo cominciato da dire, beh, guarda, questo è l'elemento chiesa, quindi è l'elemento che abbiamo visto, vuoto, capriate, quello che vogliamo, parete. Poi c'è un'intromissione, che è questa. Beh, questo portico in realtà si contrappone a metà altezza, forse alla fin fine sbilancia, poi avremmo detto, beh, ci sono questi edifici che sono in accostamento, da quest'altra parte no, c'è la strada, da questa parte, c'è la strada. E poi avremmo detto, come diciamo sempre, il campanile. Il campanile sì, il campanile è una massa aliena, estranea, perché? Perché fino a questo punto ha una sua struttura forte, inerzialmente reagente, è una, questa poi quasi a sezione quadrata, quindi forte, poi diventa, poi si cambia, infatti questo è il punto di debolezza, cambia e quindi diventano quattro pilastri perché c'è la cella campanaria. Però il campanile è, beh, questo, perché? Perché è alto, perché è un'altra, e quindi vive in maniera diversa. Ecco come ragioniamo. E non sbagliamo dal punto di vista della meccanica classica, è verissimo, noi viviamo, cresciamo in questa maniera. Ora, tutti questi nostri ragionamenti li andiamo a confrontare con queste immagini qui. E queste immagini qui non ci danno molto ragione di tutti questi nostri ragionamenti. Non ci danno molta ragione di questi nostri ragionamenti. No? Vado avanti perché vi devo far vedere altre cose e poi entriamo nell'argomento più specifico. Cioè qui c'è un qualcosa che è estraneo alla nostra generalizzazione, diciamo, nella meccanica newtoniana. È strano, il campanile è crollato, la chiesa è crollata, è crollato il portico, chi è crollato prima e chi è crollato dopo non si sa. Questa è l'immagine del caos, questa è l'immagine dell'indeterminazione, impredicibilità si dice. E quindi questo è qualcosa che fa suscitare in noi un altro e quello che poi ha fatto suscitare in me tutto questo processo verso l'identificazione di qualcosa di diverso, che è il concetto di disgregazione muraria. Un concetto che lui ha avuto difficoltà a far filtrare, sempre che si è filtrato totalmente. Però ha avuto difficoltà. Perché? Perché cosa facciamo di fronte alla disgregazione muraria? Ecco, come la conteniamo la disgregazione muraria? Beh, questo è un disfacimento da caos, da disgregazione muraria, da un frattale. È qualcosa che rientra nell'ambito dell'imprevedibilità. Beh, andiamo avanti. Vedete? Questa è rimasta così perché? Perché nei terremoti precedenti la ricostruzione fu iniettata. È una parete di calcestruzzo praticamente. Questi erano degli attacchi che venivano fatti per dare vincolo alla struttura, alla parete di continuità e erano perforazioni armate, iniettate forse con miscela di cemento d'acqua. Come vedete si è sfilato l'altro, non si è sfilata la parete. Ecco, la parete è un elemento che potremmo modellare. Eh sì, perché questa ha resistito, il resto si è sfilato. Ma perché si è sfilato? Perché si è disgregato. Non è che si è sfilato perché ha avuto un ribaltamento opposto. No, è crollato in questa maniera. E come vedete, poi ve lo farò vedere, gli elementi, gli elementi componenti della muratura, sono elementi che si ritrovano a terra nella loro composizione originaria, unitaria. C'è l'elemento lapidio, c'è la malta anch'essa disgregata, sfarinata, dissolta e questa è la situazione. Ma non si può neanche dire, andandoci ad ancorare a che questa era una muratura povera, a parte il fatto che era una basilica, è stata pure ricostruita, quindi non era mai povera. E che la malta è povera, ma non è neanche questo. Non era povera all'origine, è povera dopo l'ennesimo terremoto che ha tolta, ha licenziato tra di loro le parti. Ma non tanto un muro rispetto all'altro, perché noi ci andiamo a cercare le lesioni di attacco, eccetera. No, ha dissociato, ha licenziato elemento da elemento, malta da malta. E questo è avvenuto perché il sistema è stato un sistema che ormai ha raggiunto un effetto di fatica. Perché non è che questo sia un terremoto importante, ma perché non è avvenuto e poi è avvenuto da tutte le direzioni come tutti gli altri. Perché non è avvenuto nel 97, perché non è avvenuto nel 79, ci sono stati lesioni, ma non c'è stata questa situazione qui. Questa è la torre campanaria del municipio e questo parte nel 1859, sembra un grande terremoto di cui forse parleremo, si era un po' scoperchiata, ma la torre è rimasta quella che era. Non ha avuto mai consolidamente, a parte alcune catene che servono come al solito a cingere il fusto della torre. Ecco, questa è la situazione attuale. Guardate, c'è stata una traslazione di cui parleremo, negli effetti di traslazione dovute alla contemporaneità del sisma verticale del sismo orizzontale. Quindi c'è stata una traslazione vera, in questo senso ci stavano 30-40 cm di traslazione, in questo qui, e ecco questa cosa è rimasta. Adesso questa è una smontata sicuramente. La parte alta che era stata quella vulnerata nel periodo precedente in realtà è rimasta quasi intatta, all'interno infatti anche questo. Però stavolta la torre alla quale non si era fatto nulla. Mentre nell'altro sì. Questa è una chiesa con messa in sicurezza, è una chiesa del XIII secolo, si chiama Chiesa di San Francesco, che è diventata auditorium. Anche questo è un contenitore vuoto. Lo guardiamo così e poi lo guardiamo così. Questo è avvenuto solo nel sisma del 30 di ottobre. Nel sisma del 26 ottobre che era 5.678, non mi ricordo più, poco e niente. Quello il 30 ottobre, 6.5, sì, però attenzione, cominciamo a non parametrizzare sempre in funzione solamente delle entità, che è importante, ma l'accumulo è più importante forse della stessa entità. Se fosse stato un solo terremoto da 6.5 non sarebbe successo questo. Dopo una serie di terremoti è successo. Questo è quanto è. Guardiamo là dentro, no? Qui ci sono, vedete, questa era la copertura sopra, questa è una vela frontale della solita facciata principale. Si è alterato il rosone, ma insomma è con lesioni che fanno capire che poi questa vela ha abbattuto. Guardiamo all'interno, guardiamo all'interno. Pensate che questo auditorium è poi immediatamente transitato verso la procura della Repubblica, verso la magistratura. Perché? Perché un tempo addietro c'erano stati dei lavori, lavori limitati, che erano lavori di manutenzione, come al solito lavori che riguardavano le metodologie che si usano nell'ambito della conservazione. E quindi, quando crolla, poi, perché quei lavori non hanno previsto quello che poi è successo? Questo è quanto si domanda la magistratura, quanto si domanda il nostro collega che è stato incaricato dalla procura e che va a vedere. Se tu hai fatto degli interventi, questi interventi dovrebbero forse essere più mirati perché ciò non avvenisse. E questo è un altro punto di vista che io abbatterei subito. Perché? Ma perché sì, perché... Guardate, questa chiesa era... Ne parleremo meglio dopo, comunque, però adesso facciamo... Questa è chiesa era coperta dalle capriate così. E quando... Perché la cosa che viene facile è questa, che il più delle volte ci si accorge che se fai un cordolo è stata colpa del cordolo. Se non fai il cordolo è perché non l'hai fatto. È qualcosa che è automatico. E questo dimostra che non sappiamo mai bene quale sia la funzione di un cordolo. Perché se vale per entrambi i casi il negativo al positivo, il dire che non capiamo quello che serve. A che serve? Quando serve? E se serve realmente? O se... Cioè non... Ci abbiamo delle idee particolari, cioè ormai è un fatto anche di sentito dire. Questa era la situazione. Appoggio delle capriate? Ecco, ma basterebbe vedere cosa che vedremo meglio il meccanismo di collasso. Allora, non è collassata la parete di destra? No. No. È collassata quella di sinistra. Ma come è collassata? Perché mancava il cordolo? Ma questa è franata. A terra noi ritroviamo solo elementi unitari. E questo angolo qui è un angolo di 45 gradi. È proprio franata. Si è disgregata. È venuto a mancare l'appoggio. È quella che è collassata. Come nella chiesa di San Benedetto, che non si sa da dove è cominciato. È cominciato un effetto di disgregazione muraria. Quindi questo è ciò che è avvenuto. è collassata la parete. Le capriate hanno ricevuto una mancanza di appoggio e quindi poi si sono licenziate dagli appoggi perché se sono andate giù chiaramente non potrebbero fare altro che andare giù in questa maniera. Licenziate. Quindi come facciamo noi a fare una perizia che dica che la responsabilità è del collega che non ha valutato quale poteva essere il meccanismo di collasso. Questo è un meccanismo che non è prevedibile. Non è prevedibile perché può avvenire in qualsiasi punto. Allora è più importante stabilire che cos'è la materia. Nel frattempo, dopo otto terremoti, questo era il 31 di novembre, il 30 di ottobre c'è stata, io sono stato il primo di novembre. Questa è l'immagine di Norcia. Allora vi farò vedere le immagini di Amatrice nel 24 di agosto. Questa è l'immagine di Norcia. Questa è l'immagine di una città che sembra che non abbia ricevuto terremoto ma in realtà guardate che gran parte di questi edifici sono abitati, sono rientrati. Norcia ha avuto zero morti. No? Però perché? Perché era stato fatto un consolidamento nel 97, nel 79 del 97. Parlavo prima del disagio degli otto anni dentro un container. Bene, questo è il risultato. Questo è il risultato di Norcia. E a 50 metri c'era la Basilica di San Benedetto a cui non è stato fatto mai nulla. Questo qua, guarda, questo nei 250-300 metri di Corso di Norcia. Questo è l'unico edificio sulla destra, andando dalla porta romana verso San Benedetto, che è collassato da cielo a terra. È collassato tutto. Ma poi pensate che è l'unico edificio, è l'unica parte dell'edificio che non aveva ricevuto contributi perché era sano. Quindi il concetto di valutare se è sano o non sano comincia a darmi qualche problema. Era ritenuto sano sia nel 79 che nel 97. È collassato tutto giù a terra e il resto è quello che vedete. Guardate. E questo? Allora, la cosa bella è che dico sempre, ma poi vediamo quanto tempo avremo. Poi magari ci rivediamo una volta, se volete, un quattro ore insieme e le svisceriamo insieme. La cosa bella è che arrivo il primo di novembre dopo otto terremoti e tu trovi le vetrine sane. Uno sotto, il suo, il 6,5, ce l'ha sotto di 6 praticamente la faglia, poco distante. Ecco, queste sono le vetrine sane. No? E questa è la parte collassata. A 50 metri c'è questa e questa sta sempre sul corso. Però c'è qualcosa. Qui è stato fatto il consolidamento, poi vedremo come, ma comunque è stato fatto una rivitalizzazione muraria. Ne parleremo con la Fibrent, ne parleremo con i nostri colleghi che forniscono e che applicano queste cose. La disgregazione muraria è stata contenuta, è stata confinata, è stata rigenerata la muratura. Quello che noi abbiamo vituperato, perché sai, queste cose, poi adesso si sta ritornando, ma prima l'intonacarmato non era qualcosa di economicamente vantaggioso, poi anche per le vite. E quindi c'era questa cosa che, insomma, l'intonacarmato non si faceva. In realtà ha salvato le vite. E quindi si ritroverà anche un modo oggi, con le tecnologie più avanzate, di rivitalizzare le murature. Ma questo spessore è di 80 centimetri. E qui parliamo di qualcosa che è avvenuto nel 1859, 60, 61, 62, cioè a cavallo dell'unità d'Italia. Terremoto del 59, ricostruzione Sabauda dopo il 1959, 60. Luigi Poletti, un nostro collega meraviglioso, ha salvato migliaia di vite. Perché? Perché ha fatto un regolamento, non avremo tempo forse per farlo, non so, rivedremo. Ha salvato migliaia di vite, fece un regolamento nel quale, vedete, questi 80 centimetri era quello che era dovuto perché i progetti, e quindi cominciò con la progettazione che dovesse essere obbligatoria, dovevano tenere queste considerazioni. E lì, dentro, sui materiali, sulla continuità muraria, di tutto, dell'interno con l'esterno, sul dover evitare spinte delle coperture, quindi coperture non spingenti, gli archi, le volte che venivano limitate al solo primo piano, tutta una serie di cose che lui inserì in questo regolamento che ha salvato migliaia di vite. E quindi questo è quello che noi vediamo continuare. Ecco, guardate questa, questo inizio è stato di continuità con quello che ha detto Andrea prima, meraviglioso e anche commovente. Queste sono le immagini di Norcia. Norcia ha una caratteristica, ha questa cinta muraria, no? Quattrocentesca, e questa è la città dentro, molto fittamente cresciuta, spontaneamente cresciuta, quindi non possiamo dire che le murature erano povere. Le murature erano povere perché sì, sicuramente, ma non è quello che condiziona la risposta, è la reiterazione e il sisma orizzontale verticale in contemporanea. Ecco, quello che vedete sono crolli di edifici vincolati, uno, due, questi qua, no? Crolli di edifici vincolati, sono tutti crollati. Sant'Agostino, avete visto la via, avete visto il corso? Ecco, queste sono le chiese, lì, dentro la cerchia muraria. Attenzione, io non ho messo in evidenza, ma voi vedete che qui non ce n'è neanche una, non c'è nulla di alterato, di crollato, di alterato sì, perché poi alla fine del terremoto porta i suoi conti, però ecco, questa è la situazione. Queste sono le chiese, ecco la disgregazione muraria, queste sono le chiese. Allora, ma ci possiamo stupire, guardate le case, queste sono case che non erano nuove, sono state consolidate nel 97 e nel 79 e la chiesa non ha ricevuto nulla in questo tempo, però non era crollata nel 79 e nel 97. No, adesso invece si è disgregata totalmente. Ecco che cominciano a nascere le nostre supposizioni. Guardate le case di fronte, lo sapete che queste sono state poi ridate quando? Ma quando si è rimossa la pericolosità del danno, come dire, incidente, il danno temuto sulle case e quelle sono state recuperate. Qui si sono messe in sicurezza queste parti ancora incerte e le sono state recuperate, tutte quante, guardate, queste sono le chiese. Ma qualche ragionamento lo dovremmo fare a riguardo, aspettate che vi faccio vedere a riguardo, sono tutte così, sono tutte così, guardate, questa è bellissima, guardate questa porta, è rimasta solo lei, in piedi. Il resto, ma voi vedete che le geometrie sono perse? Adesso vi faccio vedere le cose più importanti. Campi, questa era una chiesa spaventosamente bella, con un portico che dava sulla vallata, una cosa con affreschi importantissimi, no? E poi noi che cosa siamo portati a fare? A dire che è stata colpa del tetto spingente. Cioè, ragioniamoci, no? Cioè, qui dobbiamo far suscitare un minimo di sensibilità. Il tetto spingente che produce queste cose mi sembra un po' particolarmente difficile, a meno che, insomma, il tetto spingente poteva forse influenzare questa parte, ma questa parte è proprio bassa, è delle parti, è dei sottostanti, dei piani seminterrati, e così via. Ecco, questo è quanto. Non sono andato a cercare le peggiori, ma facciamo una prima... No, ho sbagliato. Vi faccio vedere, poi nel primo corrigio parleremo di ampiezza di accelerazione, cose di questo genere, però adesso dobbiamo entrare nella nostra... guardate qui, no? Dove stanno? Questa la faccio vedere sempre, per chi vede in streaming poi la riconoscerà, ma è un passaggio importante. Qui siamo a Pescara del Tronto, dopo il terremoto, e Pescara ha avuto 47 morti. ne ho dovuto giustificare la morte per la Procura della Repubblica, per capire se loro vivevano in case insicure o rese insicure da qualche intervento sconsiderato. Allora, la cosa particolare... La cosa particolare è questa. Allora, ditemi voi come si possa, poi vi farò vedere la fotografia intera quando era sana, come si possa pensare che una casa che stava nel punto di mezzo potesse essere stata affetta da qualche manomissione. Guardate, mi alzo. Questa qui non è una frana, questa è una frana di detriti. La strada di entrata era questa. Quello che invade la strada non sono terre, non sono rocce, sono detriti degli edifici che stavano sopra. E la cosa che viene chiara da queste immagini, da questi voli, è che tutto è ritornato elemento murario originario. Mi sentite tutti da qua? Grido un po' di più. Però è meglio perché non posso disegnare in questo modo. Allora, vedete? Ma l'altra cosa importante è che il terremoto che uccide è quello che toglie l'identità. Non si trovano le strade, non si vedono più i sedimi, è tutto ormai coperto da macerie. La tessitura urbanistica non esiste, non c'è. Le macerie hanno... C'è stato il crollo non da una parte o dall'altra, è verticale, invade la strada e invade la casa. Non si trova più niente in questo... Allora, io dico sempre che dobbiamo riflettere perché non si muore a causa del momento flettente o dello sforzo dagli altri. Non è il momento flettente che ci fa, che è la causa fisica che ci fa morire. È qualcos'altro di cui dobbiamo tenere conto e che ormai con questa maturità che è chiara in questo modo ci viene spontaneo di verificare. Sì, grazie. Il mio censore è arrivato. Questa è la matrice prima del terremoto, il corso, come quello di Norcia. L'edificio è questo, quello che ci fa riferimento alla foto. La foto è di Re Luis e viene... E questo... Se noi entriamo in una nostra cittadina, qualsiasi, anche qua attorno, ma da qui qualsiasi parte in Italia. Abbiamo centomila centri di questo tipo, col corso, perché poi si rifà al cardo del degumano tutto quello che noi troviamo proprio in fin dei conti. Alla fin fine noi ci accorgiamo che non potremmo mai pensare che questa immagine è la stessa di questa. La stessa identica immagine sia questa. Nel nostro punto di vista, al solito l'edificio che poi crollò nel... Questa è dopo il 24 di agosto, dopo i 231 morti qui dentro. Ecco, questa era prima. E allora uno entra in questi cosi. Io vivo a Perugia e se devo dire che girando la città ci sono incertezze di tutti i tipi dal punto di vista strutturale. Per spontaneità, gibbosità frontali degli edifici che spingono. Ecco qui noi troviamo solo questi due capi chiave. Poi in fin dei conti edifici bassi. No? Dov'è che possiamo capire... Io avrei detto sicuramente il crollo, avrei previsto il crollo di questo qui, questo alto, eccetera. Ecco, questa è la cosa migliore. Poi dopo c'è un discorso di frequenze che si fa in ragione dei comportamenti delle strutture snelle alte su queste nostre frequenze. C'è la penalizzazione per le strutture basse, più compatte. Ecco questo è quanto. Oh, tenete presente che qui noi... Erano così le macerie fino a questo livello? Poi c'è stata per ricreare la via per raggiungere e per mettere in contatto questo. Ma che cosa vogliamo dire? Che questi nostri edifici siano collassati perché quel tetto pesava? Avrà contribuito, lo sappiamo, sicuramente. Però il concetto è che il fenomeno è di altro tipo. È di altro tipo. Questa e il crollo praticamente non c'è più nulla. Ormai è la Sanzuola. Non si sa più che cosa si farà. Questo è il corso che avevamo visto. Queste sono le torri che sono state risparmiate proprio per quel discorso delle frequenze. Alquata, questa è la strada d'accesso. Questo è il paesino prima. Alquata non c'è più. Questa è dopo il crollo del 24 di agosto. 6.0. Voi guardate che differenza. Adesso è questa. Adesso è questa. Non c'è più nulla perché è stato tutto ripulito. Ripulito vuol dire di tutto. Degli effetti personali, delle lavatrici, dei mobili, tutto. Tutto. Ecco, questo è quanto. Allora comincio a ragionare sul concetto di meccanica classica. Allora devo ragionare sul concetto di prevenzione. Allora non posso ragionare sul concetto che se vado lì e ti vedo una lesione e sta tutto a posto. Allora la parte debole è la parte del rilevamento dei danni lievi. Non posso pensare che quella lesione io la possa stuccare e ho fatto un miglioramento, ci metto una retina e me ne vado. Questo non è un modo ingegneristico. Questo è un modo assolutamente libero ma non ha nessuna forza epistemologica che è proprio caratteristica della nostra professione, della fisica, della matematica, della concettualità, dell'analisi. Non ha niente a che vedere con i nostri ragionamenti. Pescara, quello che vi ho fatto vedere prima, per cui c'era la frana sulla strada, beh, questo è Pescara. Questo è Pescara. E questo è uno dei fossi verso il Tronto. è una frazione di Arquata, sta più bassa. C'è una parte di copertura colluviale di circa 6-7 metri che è venuta dalla disgregazione di queste alture, però era consolidata. Ecco lì che esce fuori l'altro concetto che è quella appunto attenzione a queste coperture, a questo cambiamento di caratteristiche fisiche dal passaggio dalla parte lapidea alla parte sciolta, anche se fortemente consolidata, perché non c'erano problemi di cedimenti fondali in queste case, non se ne sono trovati, però quello che si chiama cuscinetto in realtà è qualcosa di totalmente negativo. Ah, qui sotto c'è un cuscino, tanto qui viene smorzato, no, assolutamente, il passaggio da uno strada ad un altro, in particolare nelle deposizioni più recenti, vedi l'Aquila, vedi la Pierola Padana, eccetera, è un passaggio che crea problemi veramente grandi dal punto di vista sismico, c'è un problema di risonanza delle onde, ne parleremo dopo. Ecco, questo è quello che vi ho fatto vedere, la frana di prima, che è questa, la perdita totale, non so, io non so quali erano le vie qui, non so, ecco, accumuli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, e poi passeremo dopo all'inizio, la cosa particolare è che ogni po' di tempo c'è un terremoto disfattivo, e la cosa bella è che la nostra mente, la nostra memoria dimentica l'elemento negativo. Dell'Aquila non se n'è più parlato finché non sono capitati dieci anni, l'Emilia Romagna, ma che ne so, e poi i morti, sì, lì per il momento dell'emotività, il pronto intervento della protezione civile, le donne che piangono, i bambini che piangono, cioè tutti i morti, e queste le motività, dopo un po' dimentichiamo. Allora, guardiamo un attimo che cosa, vedete, parlavamo del, questa è una foto del 1859, terremoto che fece 101 morti, donne e bambini, perché i maschi erano con, erano su, con le, con i bestiame, dove sapete, a Norcia c'è la piana, poi insomma c'è il bestiame. Ecco, quasi tutte le donne e bambini, avvenne domenica, l'ora di pranzo. Ecco, questo è quanto, il palazzo comunale che oggi non ha avuto problemi. Ci sono lesioni importanti, sì, li vediamo, però la Basilica non colore l'ho. Si pensa che sia arrivato attorno a sei, come magnitudo Richter, non magnitudo momento. Qualche puntello di quelli spontanei è questo, e qui Luigi Poletti. Poi fu chiamato, fu chiamato, abbiamo un momento difficile, che è un momento di reiterazione. Luigi Poletti era accreditato presso lo Stato Pontificio dal 1838. Era un architetto, ha fatto diverse cose, ha rimesso a posto il teatro di Rimini che era stato incendiato, Roma, il pronavo di San Paolo fuori le mura. Ha fatto tante cose, come ingegnera che veniva da Modena, e il Papa, più nono Mastai Ferretti, lo manda, il terremoto viene fuori e lo manda a vedere che cosa fosse successo. 1859-1860 arrivano i Sabaudi. Non è che lo cacciano, come si fa adesso, perché il terremoto va di destra o di sinistra. Lo tengono, lo dicono tu, sei uno capace, vieni. Erano militari i Sabaudi. Vieni e gli fanno fare il regolamento. A lui, ad un monaco che si interessava di giotifiche, che si chiamava Serpi, gli fanno fare il regolamento. Cioè, questo è una cosa di costume che io porto sempre, perché facciamo ridere. Come cambiamo gestione politica, se vogliamo vi faccio una casistica dei terremoti di destra e dei terremoti di sinistra. Come arriva il terremoto, dipende da chi governa, si rifanno i regolamenti, si rifanno le ordinanze, si rifà tutto, come dire, guardate, quelli che prima hanno sbagliato tutto, e invece questi prendono, ma stai vedete, che ormai era Papa del Stato Pontificio di Gatuto, prendono i Sabaudi, prendono questo. Messina, 908, voi vedete che abbiamo, qui c'è stato un maremoto, ma abbiamo gli stessi problemi della disgregazione muraria. Non ci sono elementi interi per terra, non c'è nulla, Marsica, 30.000 morti. Vedete che il terremoto è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Questa è la Marsica, guardate, è identica alle nostre. Belice è identico, 68, no? identico, guardate, questo sembra un'immagine d'arquata, uguale, fece storia questa immagine col pianoforte, Friuli, 76, questo ho cominciato a viverlo, non l'ho vissuto direttamente, io comincio a lavorare sui terremoti dall'80, alle 76, stavo finendo l'università. Ecco, queste sono le condizioni, si entra sempre al corso, qui le macerie erano tutte così, fino a qua, questo è stato scavato, quindi era proprio una diffusione. Queste sono le immagini del terremoto. Allora voi capite che queste cose non ce le insegnano all'università, queste cose non si insegnano all'università, si insegna qual è l'effetto del ribaltamento della parete. Se devo mettere due tiranti, devo capire la parete che ribalta e quanto io debbo tirare. Faccio vederlo. Queste sono quelle frode che vi fate vedere. Ma allora, questa è Onna, per esempio l'Aquila, ma allora, e poi finisco questa prima parte, partiremo di altre cose, questo è l'immagine della cinta muraria di Norcia che non è ribaltata per colpa, sono quattro metri di spessore, è ribaltata per colpa delle spinte dietro, è franata, questa è franata. Quindi questo è una disgregazione muraria. San Francesco che ha visto di spalle dentro la nicchia, da fuori, questa è una disgregazione muraria. Non sono ribaltamenti che noi andiamo a verificare, no? Ma allora, e poi questo ne parleremo dopo, ma di questo ne parleremo dopo, ma allora, ecco, comincerò da questo, ma allora, questi meccanismi di collasso, a che cosa possono servire? A che cosa possono servire questi meccanismi di collasso? Questi che sono pubblicati, anche nelle ordinanze, quando si va in giro a far schede a Edes di valutazione del danno, attraverso questi si fanno similitudini. A me interessano, non è che siano da buttare via, ma quando valgono questi meccanismi di collasso? Valgono nel momento in cui l'edificio ancora sta in piedi, perché se non sta in piedi lo dimentici e dici ormai è da demolire, ricostruire. E quindi ci sono effetti di questo tipo, che sono tipici del terremoto, effetti di questo tipo e sono tipici del terremoto. Allora, questi meccanismi di collasso, adesso io vorrei confrontarli con quello che realmente avviene quando si muore. Sono due cose completamente diverse. Però il meccanismo di collasso serve, però serve anche di capire come sta la muratura e da che cosa vengono generate le lesioni. Ecco, una cosa che non si fa è qual è il perché di generarsi di una lesione. si pensa sempre che sia figlia di uno sconquasso e basta. Parleremo dello stato tensionale all'interno delle murature nel momento in cui c'è una come dire disfunzione di carattere strutturale all'esterno. Dopo, quando l'ingegner Dari mi dà la parola. Grazie. Sì, eravamo rimasti qui. Eravamo rimasti alla dilatazione del accelerogramma nell'ambito temporale perché voi sapete l'accelerogramma ha nelle ascisse il tempo nell'ordinata l'intensità in frazioni di G cioè di accelerazione in gravità del sisma. Ecco, questa è la sovrapposizione il blu vediamo sì va bene il blu sono quelle verticali abbiamo detto queste qui e in rosso quella ho fatto vedere anche che all'Aquila è tutta diciamo verticale la prima fase l'abbiamo vista anche in Emilia eccetera c'è un vedete questo pensate è il sisma del 3010 di Norcia tutto è durato circa 20 secondi e questa è la parte di un secondo e mezzo questa è la parte di un secondo e mezzo che poi è stata riportata qui vedete in un secondo e mezzo quante ne succedono in questo in questo sisma quindi questo è l'aspetto come dire naturalistico del nostro sisma non è l'aspetto matematico l'aspetto dell'intensità che prendiamo inseriamo eccetera perché questo vi dico adesso andiamo a vedere un'altra cosa interessante poi ci ritorniamo perché questo perché come vedete io sono stato mai un professore di razza proprio perché poi passo da una parte all'altra volevo far vedere una cosa che è ecco questa qui guardate qua guardate allora riprendiamo il nostro secondo e mezzo che cosa fa questo è il verticale che cosa ho fatto ho fatto ho fatto contare semplicemente cosa che non si fa ho fatto contare tutti gli impulsi in che modo quelli da da 0,2 g da 0,3 da 0,4 5,6 7,8 0,9 g ecco vedete i pallini no eccetera indicano la diversità del nostro sisma eccetera questo è sempre il secondo e mezzo che cosa è successo che una cosa che non prevediamo in tutto ciò perché vediamo sempre il terremoto nella sua interezza ripeto graffi stiamo lì ci reggiamo eccetera che nelle accelerazioni la componente verticale la componente orizzontale hanno avuto da 0,05 g 75 84 0,05 è qualcosa che comincia ad essere l'unità di misura iniziale per i terremoti sotto ancora non è entra nell'approssimazione del rilevamento 0,2 51 e 75 quindi ho avuto 51 di componente orizzontale e 75 verticali da 0,2 vado avanti 0,3 24 18 qui siamo praticamente nella nostra soglia di normativa 24 18 e poi 7 e poi 4 vedete il concetto non è quanto è forte la g o quanto è forte la magnitudo è quante volte il mio edificio è stato scosso da 0,2 g vado ritorno riaccelero da 0,3 da 0,4 e la cosa particolare che abbiamo graficato questo fatto guardate per esempio questa è norcia del 30 graficandolo mettendo il numero di impulsi da accelerazione e l'accelerazione sotto escono fuori queste cose quello tratteggiato è il verticale quell'altro orizzontale esce fuori che se questa è l'accelerazione g in ascisse in ordinate e ci metto il numero di impulsi cioè quello che dicevamo prima 75 quindi se io vado da 0,02 trovo che ce n'è stato 50 circa da 0,2 e 75 infatti lo ritrovo va bene la cosa particolare che escono fuori queste e che sono curve che abbiamo usato insieme a Francesco Pugli e continuiamo ad usare per parlare poi infatti di memoria del danno e questo è ancora il sisma di Amatrice vedete che ritorna una sorta di curva e la cosa bella è che i terremoti si comportano tutti alla stessa maniera questa è Amatrice ancora quello del 30 quindi prima era quello del 24 questo è quello dell'Aquila si comportano tutte alla stessa maniera c'è un'intensità forte che è quella da 0,2 e 0,3 e poi arrivano quelle forti vanno in asintoto praticamente verso 0,7 8 e quindi la cosa interessante questa è un po' anomala ma questo è il Friuli del 76 stessa identica cosa vedete hanno tutti una caratteristica in termini di impulsi se vogliamo verticali e orizzontali e la cosa particolare vi accorgete che il tratteggio è quello verticale quello orizzontale sono praticamente simili quindi voglio dire come come lo diciamo apertamente da tempo come poter ignorare finora una componente verticale nel sisma cioè come non inserirla in una in un'analisi in una modellazione adesso si deve adesso dobbiamo si deve significa che abbiamo l'obbligo di capire qual è la situazione per cui applicare questa cosa per cui possiamo farlo perché è un discorso che non va ad incidere sulla nostra professione perché nient'altro che trasferire il sistema orizzontale e il verticale chiaramente attraverso gli spettri gli spettri che la che la normativa contiene allora questo era quel minimo per dire che abbiamo questa questa capacità ma adesso rientriamo sopra e vediamo una cosa perché perché il terremoto questo è Armando Lucio Simonelli che ringrazio sempre mi ha dato queste diapositive perché si crea il verticale perché si crea il verticale noi abbiamo distinto nel terremoto tre tipi praticamente di 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 sollecitazioni di impulsi no dall'ipocentro si scatena questa questa energia si scarica e partono delle onde P che sono le prime cosiddette prime queste onde prime si avanzano nel mezzo che poi è il terreno la roccia avanzano come fosse la mia voce quindi per compressione decompressione 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 è un tipo di di onda di questo tipo e chiaramente sono parallele alla direzione le onde S secunde che è il latino le onde S invece sono perpendicolari poi dopo si creano anche quelle di superficie che sono importanti ma in questo caso non le mettiamo in conto le mettiamo allora tra le due c'è una netta differenza avete capito già per come si manifestano e le onde P sono più veloci di circa il 60% delle onde S e quando partono dal ipocentro che cosa succede che se siamo in verticale praticamente sono guai perché le cose che stanno sopra le prendono tutte praticamente il fenomeno è praticamente verticale perché l'ipocentro e l'edificio che sta sopra sono balza praticamente sempre in questo senso di meno se però viaggiano le P arrivano prima e nei grandi bacini nei bacini colluviali nei bacini che sono di sedimentazione recente abbiamo visto l'acqua abbiamo visto il po e quindi il pianofadano eccetera queste si verticalizzano e verticalizzando a questo punto arrivano prima e si vedono veramente queste verticali prima e queste allora adesso qui andiamo avanti in questo e questo tanto per farvi il quadro e un accenno minimo a questo importantissimo questo ma questo è di Carlo Doglioni ma allora che cosa succede è che nel momento in cui si sovrappongono le due cose verticale e orizzontale teniamo presente che ci siamo mossi 30-40 cm in verticale e 30-40 cm in orizzontale quindi nel momento in cui avviene questo quando manca di peso arriva l'altra e taglia ecco le lesioni di taglio perché le lesioni di taglio prima avevo dimenticato ma ci sono tante cose che non ci siamo detti quando dicevo che le lesioni che conosco sono quelle di di tipo di trazione e poi invece chiamo di taglio altre lesioni perché dico questo perché la lesione come ho detto si si manifesta nel momento in cui c'è la trazione il materiale ha questa vulnerabilità rispetto alla compressione c'è allora quando questo questo vertice che chiamo A e questo chiamo B si sposta in A' in A' e quindi diventa questo parallelogramma chiamiamolo così in B' che cosa succede? succede quello che avviene anche nel cubetto di calcestruzzo che qui si crea un allungamento si crea un allungamento perché A da B a C diventa più lungo e diventando più lungo si crea la lesione perché diventa più lungo e quando vado dall'altra parte succede un'altra cosa e quindi ecco quelle che chiamo le lesioni di taglio che di taglio non sono sì è vero che l'effetto è più un effetto tagliante perché i due piani tra di loro scorrono ma la lesione di per sé non è di taglio l'effetto di taglio è questo che vedrete è questo qui l'effetto di taglio questi sono via che mi ha dato che mi ha dato Alessandro De Maria ecco l'effetto di taglio passa da una sezione di minore resistenza a una sezione di maggiore resistenza eccolo qui questo è proprio l'effetto tagliante che avete visto disegnato nelle slide di Carlo Doglioni questi sono questi sono gli effetti taglianti come anche quello che avevamo visto del Campanile di Norcia avete visto come ho fatto vedere i 30-40 cm di trasferimento questo è taglio puro questo è taglio puro questo è taglio puro le due parti tra di loro scorrono ed ecco qui non c'è deformazione verticale e non c'è questa ecco questo è quanto allora nell'andare avanti su questo su questo tema e poi finisco questa cosa questa piccola parentesi perché devo farvi un'altra cosa importantissima e c'è cosa succede una riflessione che ha dato luogo poi a tutte le pubblicazioni che abbiamo fatto e di cui io vi manderò due slide se volete fotografatela andatela a vedere oppure Andrea Dari vi dice qual è il link ma io vi faccio fotografare i link in modo che avete proprio tutta la bibliografia di questo percorso che va da terremoto e caos che è il primo mio articolo a quelli ultimi sulla memoria del danno allora queste sono le immagini dei degli schemi figurativi dei materiali questo lo conosciamo del calciastruzzo questo è dell'acciaio questi li conosciamo delle murature non le conosciamo adesso vedremo quali sono gli effetti che un martinetto piatto genera in una muratura beh qui si rappresenta questo effetto così indicando questa parte sigma epsilon o epsilon sigma come la parte elastica e qui del calciastruzzo e qui dell'acciaio ora l'acciaio ha la parte di snorbamento poi allungamento e qui arriva fino all'ottura qui ormai c'è la plasticizzazione e qui ugualmente che cos'è una duttilità è il rapporto tra il momento e quindi l'allungamento di rottura e l'allungamento in cui è cominciata la deformazione plastica irreversibile qui nel calciastruzzo è qualcosa nella muratura praticamente questa parte qui è proprio inesistente è proprio zero è qualcosa che se la muratura è nuova qualcosa la ritroviamo ma se la muratura è quella che conosciamo dove stiamo dentro casa quando andiamo a casa in villeggiatura quella è zero pochissima quindi è una curva di questo tipo ancora duttilità ha questi effetti anche qui l'acciaio c'è però la cosa particolare non voglio parlare ma la cosa particolare è che anche l'acciaio di per sé ha il problema della fatica e quindi dell'ottura per isteresi per editarietà eccetera quindi a questo punto quando parliamo e finisco questa parte quando parliamo perché voglio far vedere delle cose diverse quando parliamo di duttilità che inseriamo nei nostri calcoli è una cosa che noi vogliamo che ripetiamo o deriviamo e comunque se il terremoto è oggi e faccio un mio modello e domani è un altro terremoto io uso sempre la stessa duttilità qui c'è qualcosa che dovremmo in qualche maniera cambiare sì dovremmo in qualche maniera adattare perché non è possibile che io possa utilizzare sempre la stessa duttilità non ha nessuna possibilità nessun valore allora questo invece che adesso lasciamo questa parte guardate qui questo è è una prova con martinetto piatto ma dobbiamo capire per quale motivo se io faccio una prova su martinetto piatto parto e faccio un primo ciclo ritorno già ho un delta nella muratura doppio martinetto qui ho un delta ritorno riparto secondo ciclo delta 1 delta 2 e qui terzo ciclo adesso lo faccio così grande delta 3 beh ma se questo avviene in una prova meccanica che faccio io perché il terremoto poi non deve fare la stessa cosa sul mio edificio quindi è una questa è un accumulo di deformazioni segui anche anche gli effetti per esempio della se vogliamo gli effetti per esempio delle prove diagonali no anche prove diagonali questa è un'altra prova io provengo anche dalla geotecnica ecco nella geotecnica ci sono prove importantissime e poi c'è stata proprio una varietà di prove sulle caratteristiche meccaniche dei materiali dei terreni noi non ce ne abbiamo qui molte di queste prove quasi zero e prove dirette e prove indirette abbiamo anche i concetti efficienti di amplificazione sismica troviamo nelle prove sismiche eccetera ma anche quelle dirette voi pensate solamente e anche quelle di laboratorio no le dometica la triassiale la taglio e sul posto possiamo usare che ne so i pressiometri infilati possiamo fare veramente di tutto grazie di tutto attraverso questa cosa allora nella muratura andiamo diciamo qui tagliamo e ci mettiamo una prova diagonale in cui stringiamo in questo senso voi capite che se la muratura si fa tagliare già la prova ci dice che verrà bene perché le murature che andiamo a trattare noi non si fanno trattare in questa maniera qui in genere quando hanno perso le caratteristiche meccaniche non si fa se vogliamo la possiamo verificare dopo il consolidamento beh questa mi sembra meglio dopo il confinamento come diceva Cecilia che abbiamo rivitalizzato la muratura ma la prova che facciamo in un ambito per cui andiamo a tagliare in questa maniera vi assicuro che è e anche qui in ogni caso anche se queste prove non sono poi così noi troviamo nel reiterare delle prove un degrado della materia durante le prove allora che dire diciamo che questa l'abbiamo vista ma io invece vorrei fare un'altra cosa adesso con voi una cosa più pratica anche perché così vi rilassate ormai siete stanchi ormai siete veramente stanchi allora mi ricordo più qual era il mio cosa allora interventi di Gennaro secondo solo che cerco che l'ho tirato fuori no non è questo messo in sicurezza ecco allora guardate qui vi faccio vedere le cose un po' diverse da quelle che si vedono altrimenti ricordate l'auditorium di Norcia è questo ricordate qual era il suo problema bene di tutto ciò qual era il suo problema la disgregazione di questa parete di sinistra beh di sinistra di destra perché l'abside poi era a miei spalle era bene però la cosa particolare è che questo è l'inizio del terremoto è che questo rosone che era del 1300 in realtà ormai stava ai limiti del collasso fatti tutti i rilievetti eccetera eccetera adesso vi faccio questi sono i miei disegni e questo ecco fatte tutte le mie cose mi ritrovo in questa situazione vengo incaricato per salvare questa roba ora salvare questa cosa all'interno vedete c'è un ci sono già delle parti che a causa della deformazione del cerchio sono andate in pressofessione si sono rotte poi c'era questa parte di cornice che era in totale di staccamento questo elemento della cornice che è tutta lavorata di pietra di calcare tutta lavorata di freggi come si dice floreali e questa parte cadeva ma c'era un filo della luminaria che la teneva quindi stavo in questa situazione come bloccare una situazione del genere come bloccare anche tutta l'altra parte vengo incaricato ero là sotto ecco perché l'aspetto fisico prevale e arriva una di quelle 190 quante sono state scosse da 4 4 e 1 stai lì è brutta ma c'era tutta la piazza quindi sobbalzavo e vedevo questo questo rosone che si stava ormai licenziando e quindi che sarebbe collassato da lì a poco non è facile pensare di puntellare l'interno chiamo il mio amico Raul Paggetta che è una persona con la quale abbiamo passato tre terremoti insieme della soprintendenza e gli dico caro Raul io vedete come è messa questa cosa caro Raul io blocco questo il tutto col poliuretano espanso lui mi dice benissimo cosa che con lo stesso entusiasmo non mi ha non mi ha accolto la soprintendente e quindi hai fatto vedere il quadro di Vermeer e Vermeer no non l'ho fatto vedere perché se no mi avrebbe dato neanche l'incarico dice questo è un pazzo malato allora ecco qui abbiamo cominciato a spruzzare il poliuretano il poliuretano espanso la soprintendenza aveva ragione dice dove l'ha visto fare l'abbiamo fatto tante volte nel terremoto del 97 però dice ma come facciamo a capire dico guardi quello è l'unico modo per farlo lei se vuole mi blocchi con i carabinieri ma io ormai io ci vado e lo spruzzo spruzzandolo in questa maniera da due metri di distanza è stato tutto bloccato come vedete adesso ve lo faccio vedere fino fino alla fine come vedete già qui siamo in una situazione migliore vi sento mormorare eh allora questa ma quello però attenzione non è che ho bloccato solo lì poi abbiamo bloccato anche dalla parte interna perché non si può ma poi è tutto funzionale all'opera di consolidamento ecco siamo arrivati fino al marcapiano vedete il l'uomo che sta appeso e ha cominciato la parte interna perché andava bloccata non bastava però attenzione perché perché io dovevo dovevo anche bloccare questo effetto di ribaltamento durante il sisma non sapevamo se sarebbe venuto un altro sisma e quindi ho fatto armare con fibre di vetro comprata alla Fibrenet armare anche di qua e di là quindi messa la rete la rete di fibre di vetro e poi di nuovo spruzzato vi faccio vedere questo è quanto qui sta ecco qua vedete che c'è la rete di qua e di là perché perché doveva essere armato a trazione da una parte o dall'altra questa è la fine del discorso però vi faccio vedere poi quando ho fatto questo col mio solito temperino che ho in tasca che ho inviato la foto che ho inviata poi è venuto Franceschini sono venuti tanti a felicitarsi a felicitarsi certo e questo è l'immagine di qualcosa che si può togliere tranquillamente si fa un'idropulitura e la cosa particolare in tutto ciò che va detta è questa è che nel momento in cui andrò a smontare perché questa non è una cosa che si riappiccica lì così questo bisogna smontarlo se fosse caduto a terra si sarebbe rotto i pezzi chissà il puzzle come l'immagine nel Cimabue nella Basilica Superiore di Assisi invece no questo puoi toglierne un metro e smontarlo e metterlo a terra un altro metro smontarlo e questo è quanto quindi diciamo che è un processo che non ci non serve il quale non serve più è un processo di diffusione della cosa e questo l'ho fatto vedere questa ancora questa ancora l'ho fatto vedere però vedete la rete come vi facevo vedere prima eccola qui però la la cosa particolare è che l'intervento poi deve essere un intervento che costi poco dice ma è questo no non costato tanto questo si chiama poliretana celle chiuse e l'intervento è questo l'intervento è questo qui questo qui che cos'è? è un intervento di palcature io ormai faccio solamente questo vi faccio vedere poi il resto perché perché la palcatura può essere utilizzata può essere comprata dall'ente e poi rivenduta al consolidatore finale all'appaltatore finale in realtà è qualcosa che servirà poi per i lavori perché si fa lavorare la palcatura a ribaltamento e quindi bisogna fare in modo che la palcatura se serve doppia poi vedremo per non farla doppia la palcatura sia sandwich di qua e di là ci siano degli elementi di raccordo tra una palcatura interna e esterna e il tutto diventa stabile vedete eccola l'interno e l'esterno poi vi farò vedere questi questi elementi qua di collegamento e il tutto diventa stabile in questo caso ne serviva doppia perché è chiaro che avevo delle spinte diverse ma una volta e questa è l'immagine frontale della palcatura finale eccetera allora adesso vi faccio vedere come è avvenuta la palcatura ecco questi sono questa è la parte interna queste sono le piastre che sono è forato la parete sono le piastre che si vengono messe di qua e di là chiuse e vengono a collegare le due parti di palcatura interna e esterna queste sono le cose inventate lì per lì e faccio vedere meglio questa è la piastra chiaramente ancora la cima la sommità è stata tutta fissata eccole guardate questi sono un golfaro di qua e di là e che passa attraverso questo elemento trasversale e che si collega alla palcatura quindi a questo punto le due parti sono tra loro solidali e collaboranti però questo è il mio disegno sul posto io vi sorto a disegnare perché il progetto va fatto noi siamo artigiani diciamo sempre con Andrea e con Cecilia l'arte del giornato l'arte dell'esperienza è quella che ci fa quindi sul posto noi dobbiamo risolvere il problema perché? perché se te lo porti a casa te lo sei dimenticato quindi questo è quello che ho disegnato per fare quel collegamento che serviva lì eccolo questo qui collegamento questo è alla fine però vi voglio far vedere un'altra cosa questo è finale fatto finito finito il consolidamento vi voglio far vedere un'altra cosa come vedete poi è qualcosa che non si perde perché si usa e si riusa dopo voglio far vedere un'altra cosa che è questa ah no guardate qui questo è un progetto che è passato una situazione assolutamente particolare che è questa in questa situazione come vedete siamo proprio ai limiti del collasso è rimasto ben poco guardate è rimasto ben poco a reggere il tetto qui c'è un altare guardatelo da dentro e da fuori insomma io ho avuto paura perché si è dilungata un po' la pratica perché c'è anche nevicato sopra molto ed era una chiesetta importante perché era vicino a Norcia ad un bivio a un crocivia importante ben frequentata no da Fedeli eccetera vedete come è messa beh questo è il quadro fessurativo un quadro fessurativo enorme mancanze totali eccetera cosa fare in una situazione del genere e cosa ho pensato ho pensato di questo allora non riesce a puntellare queste robe queste robe non si riescono a puntellare non è che metto un puntello qui ho risolto il problema anche perché poi c'è il Fedeli e allora che cosa fare creare un tunnel da qui in fondo fino ad arrivare all'altare che è là in fondo creare un tunnel e fare in modo questo è più alto chiaramente è così ecco questo è il tunnel fare in modo poi di chiudere tutto e dall'alto iniettare con il poliuretano quindi sempre in questa maniera in modo tale che si arrivi fino in fondo il poliuretano reggerà tutto e non abbiamo più problemi perché questo viene sorretto da tutte le parti chiaramente per strati non dobbiamo creare sovrappressione nel momento in cui espande tutto quello che volete però insomma questo è il progetto ve lo faccio vedere e poi il circondario ecco questo è il progetto vedete qui siamo ma a meno che si va avanti come nella galleria ho fatto galleria nella mia vita ma a meno che si va avanti si va avanti con i cosiddetti marci avanti ci si copre la testa si fanno questi sono tutti i telai d'acciaio questi che vedete qua adesso vi faccio vedere sono tutti i telai d'acciaio si copre la testa si puntella laterale e si va avanti fino al coso quindi è tutto sempre coperto è come nella galleria però stavolta entri in qualcosa che non ha non ha una sua come dire uno non deve scavare perché è tutto prefabbricato quindi è una cosa abbastanza veloce fino in fondo questo che vedete non è puntellato nulla è lì come adesso però è stato approvato il progetto quindi l'ho potuto far vedere e quindi è qualcosa ecco la cosa particolare è che all'esterno noi abbiamo sempre un'intelaiatura che cinge e che quindi a un certo punto all'esterno ho anche degli effetti in telaiatura in telaiatura portante in telaiatura portante e poi leggo in alto la parte in modo tale che l'intelaiatura abbia un effetto anche di di auto autosostegno e queste sono le varie parti eccetera però la cosa che invece volevo far vedere è un'altra è questa qui guardate porta romana la lasciamo stare anche se poi alla fin fine porta romana è importante fondamentale porta romana a un certo punto arrivo a Norcia e questa situazione è in questi termini la porta meravigliosa viene è stata ormai disgregata totalmente questa era la porta ancora prima come vedete è Augustea anche lei e la gente questo è il 24 di agosto la gente era fuori ma non ha avuto nessun danno invece il 30 avviene di questo che se riguardiamo dentro vediamo che tutte le pietre della coltre muraria esterna sono tutte mosse e allora a questo punto a questo punto però qualcuno anzi la soprintendenza aveva pensato bene di cingere con questa palcatura però come risolvere il problema dell'espulsione e allora faccio qualcosa che era stato inventato da me nel 97 che è questo cioè creo un sistema di catenaria con funi che rimanda all'interno le sollecitazioni poi vi farò vedere il prototipo questa è una catenaria che ha l'effetto dell'elemento attrazione se fosse stata a contatto non l'avrebbe avuto invece catenaria ce l'ha perché le reazioni dipendono dall'angolo di incidenza dei vari punti di contatto della catenaria come con funi di acciaio ve faccio vedere perché poi devo passare ad un'altra cosa ormai non vi mando più a casa ecco vedete queste sono le funi della catenaria che va con morsette ad attrito una cosa veloce morsette ad attrito tenditori e anelli che passano da un tubo ad un altro eccola qui sono tre fasce doppie di catenaria che rimandano all'interno la palcatura con i suoi con i suoi piedini regolabili e questo è quanto eccola qui però questo da dove proviene adesso ve lo faccio vedere da dove proviene da qui 97 questo è il sistema di catenaria questo è il 97 palazzo di priori di Perugia queste sono due sale due sale alte 9 metri 9 metri questi sono 16 e 36 due sale enormi vi faccio vedere com'è l'interno è completamente affrescato beh queste due sale questo spigolo che è questo spigolo qui in fondo questo spigolo qui in fondo questo spigolo ha cominciato a vibrare a pulsare verso l'esterno pulsando verso l'esterno ha aumentato la lunghezza abbiamo sempre detto prima aumentando la lunghezza vuol dire ha tagliato tutte le trifore tutte queste in questo punto qui qui ma in particolare qui 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 dalla parte dove ha avuto trazione andando avanti in questo punto spostandosi verso l'esterno non avrendo reazione verso l'esterno si sono piegati tutti i pilastri e si sono tagliati da questa parte non poteva che essere così i pilastri hanno tutti archi che spingono storicamente c'è stata una un proprio un effetto infatti ci sono qui le catene un effetto di spanciamento poi intelligentemente hanno costruito il sopra per calibrare bilanciare i carichi e quindi a questo punto e queste sono le spinte eccetera a questo punto che cosa fare in una sala affrescata all'interno come poterla e allora ho pensato di fare questo che voi vedete è una cinturazione è la prima questo è il punto che vibrava questo è il punto che vibrava è la prima catenaria ho avuto la fortuna di poter andare a vincolare qui alla stessa quota che qua e questi erano tutti i martinetti che riportavano verso l'interno riportavano verso l'interno le spinte di quegli archi che vi ho fatto vedere prima che stanno verso l'esterno e così verso come è fatta è appesa era appesa era appesa di che cosa era fatta di acciaio acciaio fasce di acciaio da 10 da 12 120 millimetri per 10 millimetri perché fasce di acciaio perché le fasce di acritico sarebbero state inadeguate in quanto per ottenere quelle purtroppo quelle resistenze che noi dobbiamo ottenere in quell'angolo ho bisogno di fasce perché è un problema di deformazione non è tanto le sigma se le sigma tu me le dai dopo mezzo metro di deformazione ho avuto il collasso se me le dai presto subito con delta L su L molto più limitato io riesco a contenerle questa è attraverso una piattaforma aerodinamica il montaggio ma io ve la faccio vedere senza alcun chiodo sulla parete appesa fatta tutta con cose abbastanza semplici perché sempre vedete tutta appesa questo è legno fatta tutta è una tensostruttura sì eccola questa qui è durata tanto tempo perché poi è stato ho dato ho avuto l'incarico di ridare continuità ai pilastri è stato un lavoro molto importante difficile perché dovevamo bucare il pilastro per lunghi tratti vedete questa è una intelaiatura totalmente autonoma ma è una tensostruttura ora è formata da degli elementi rigidi sì le uniche cose sono i martinetti cioè questi pistoni che in realtà con poi dopo lo vedremo meglio con impannatura inversa riuscivano ad allontanare e quindi a creare le tensioni però attenzione queste sono le fasce vedete qui si vede che ci hanno lavorato però il problema qual è è che per ottenere quelle tensioni non bastava la forza umana serviva come un primo approccio alla messa in intenzione e allora per far questo ho inventato il problema ho pensato che c'è la necessità delle celle di pressione che sono dei cuscinetti che attraverso un'alimentazione ad olio e attraverso la loro superficie riescono a darmi con la pressione che gli do all'olio a darmi una una tensione equivalente e quindi che cosa succede questo è il vincolo i due vincoli di qua e di là che cosa succede c'è di questo adesso devo ritornare indietro dal disegno che mi è saltato questo non è questo questo è il disegno martinetto imparatura inversa pistone cerniera assolutamente cerniera e qui c'è la celle di pressione per far questo che cosa bisognava fare bisognava allentare questi due dadi questi sopra dare pressione e poi stringere quelli sotto in modo tale che non ci fosse il ritorno e quindi questo però però il problema grosso non era questo quanto il fatto che alla fin fine quante ce ne sono di queste celle di pressione perché ogni punto aveva una pressione diversa dipende dall'angolo di incidenza e quindi ogni punto per avere la stessa la stessa reazione R chiamiamola così e l'angolo di incidenza dipende come si allarga la catenaria l'angolo diverso e sollecitazione diverso e quindi che cosa fare ce ne volerano 120 non era possibile ecco l'ingegnere ecco l'artigianato nonostante le tecnologie avanzate in andata e in ritorno in andata e in ritorno in andata e in ritorno finché il sistema si è compensato perché non ce ne avevamo così tanti e non si poteva lasciare lento e poi per due volte all'anno perché poi passa la temperatura la temperatura influenza sicuramente il nostro sistema questo è quanto ma questo ci ha portato la parte di sopra i 9 metri non era seffrescata la sala podiani questa bene vi faccio vedere qui invece no dividere l'altezza in due parti come ancora con la tensostruttura cioè con funi che diventano superficie l'insieme delle funi che vengono tese diventano elemento di superficie e quindi non fanno allontanare le parti tra di loro quello che non volevo perché all'interno non sarebbero andati e quindi tutto questa è la fune due operai come si fa queste sono perforazioni armate piastre come si fa con due operai beh non puoi mettere funi del 20 perché i due operai in mano ecco quello che trasferisco sempre ragazzi attenzione le nostre tecniche devono essere maneggiabili non possiamo inventarci una trave di 10 metri che pesa 300 chili e da infilare in una finestra bisogna pensare che forse quella trave la possiamo anche saldare di testa no? e perché no? la taglio in quattro parti e poi la risaldo poi ci metto tutti i pauperamenti che devo in questa maniera ma questo è quanto devo fare in modo che le cose si possano maneggiare quindi queste funi che erano da 20 le ho dovute frazionare in funi da 10 da 8 da 10 e quindi dai 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 questo è il nostro il nostro lavoro questa è un'impresa dopo la stessa impresa Carli Carli e Enrico Cacciatore questa è una chiesa guardate qui all'interno del chiostro questa non la faccio vedere ma all'interno del chiostro è fondamentale il chiostro è la parte più vulnerabile del convento voi sapete queste sono delle bielle che i pilastrini quindi sono i primi poi a collassare la grande struttura collassa la piccola non è l'inverso cioè non è che l'aiuti la collassa come un dissipatore questo è questa è l'immagine dell'interno aspettate che lo faccio vedere questi sono tubi recuperati e queste sono le catenarie interne vedete questo manda verso l'interno le sollecitazioni verso l'interno questa è un'altra ma poi ancora ecco questa per esempio l'invenzione che è stata portata poi in quelle che vedremo da allora fu un'invenzione questa cioè se noi successe di questo oltretutto che questa è la palcatura che è stata messa ma la parete di questa chiesa che si chiama San San Biagio e Romualdo San Biagio e Romualdo c'è scritto? ah bravo no mi era sembrato un po' un po' pronto ho pensato sarà di Fabriano lì per lì ho pensato San Biagio e Romualdo io ho detto pure bravo va bene ecco San Biagio e Romualdo e questa chiesa a tre navate oppure le chiese a tre navate hanno il problema delle navate laterali quindi la separazione che è data da colonne e quindi diventano dei martelli queste bielle che sono le colonne e battono e licenziano la parete frontale un meccanismo abbastanza conosciuto beh messa la palcatura continuando i sismi questi battevano e la palcatura continuava a muoversi allora che cosa fare? rinforziamo rinforziamo alcuni rinforziamo alcuni livelli e poi mettiamoci queste catenarie prima una catenaria una clinica che non reggeva niente e poi dopo i tondi d'acciaio hanno funzionato andandoci a collegare a distanza quindi questo nasce un nuovo modo di di opere di opere di messa in sicurezza perché? perché basta una palcatura con queste catenarie che non mi che mi consentono appunto di avere una reazione diretta e immediata questa non ci si riusciva ad entrare qui avevamo bisogno di una larghezza eccetera una chiesa che era ormai in disfacimento quindi pensare a che? ecco la catenaria ad ancorarci con diversi punti e ad andare dentro con una e ad andare dentro con una palcatura e basta ve la faccio vedere queste sono due fasce doppie ecco che comincia c'è il gioco questa è una questa è l'altra e qui riparte qui riparte doppia e va avanti vedete che poi sono anche belle a vedersi sono degli archi sospesi che riportano all'interno le sollecitazioni no? e questo è una rete importantissima perché poi c'è la disgregazione che deve essere contenuta le piattine che vengono dalla palcatura che diventa struttura reticolare orizzontale eccola qui vedete questa è lo spessore della palcatura in un edificio che andava a collassare eccole qua questi sono anelli semplici ogni tratto chiaramente deve avere il tenditore e i borsetti ad attrito perché tra di loro non è che scorrano e quindi questa è ma ancora scusate questa per esempio palazzo a Cic questo era incombente su altri edifici che invece erano sani e potevano essere abitanti e invece era una situazione gravissima di no? gli elementi si potevano vedete da questa ragnatela di lesioni ci si accorge che dietro l'impianto murario è assolutamente disgregato rimane l'intonaco ma rimane l'intonaco appiccicato così e allora inventare una cosa del genere ugualmente con spazi molto limitati perché c'erano ecco questa è l'immagine di una sola una sola palcatura esterna che la cinge per fortuna è circonnavicabile una sola palcatura esterna e la cintura data da queste funi di acciaio che vengono e la rete come vedete adesso ve la faccio vedere questi sono particolari costruttivi come vedete l'elemento è regolabile e spinge qui chiamiamo la R e spinge e qui abbiamo queste componenti che vanno a spingere all'interno particolare costruttivo questa è in verticale sezione verticale a terra zavorre no zavorre no cioè nel senso che la zavorra se si muove si sposta tutto il piede allora prendere e fare in modo che la palcatura diventi parte integrante della struttura come abbiamo fatto con la catenaria e con gli agganci qui ci abbiamo delle perforazioni armate con questa sorta di ancoraggio che ci permette ecco questa è la parte finale da vedere in particolare questa è una ecco aspettate che la faccio vedere meglio dove si vede meglio ecco vedete questa è la parte finale e qui rimarrà fino a quando ecco questo è l'aggancio al piede fino a quando non ci saranno i lavori aggancio al piede aggancio al piede questa è piombata impiombata come si dice ecco questa è la parte finale del corso poi poi beh vi assicuro che l'aspetto non lo sappiamo da ingegneri che l'aspetto che l'aspetto strutturale calibrato diventa anche diventa anche estetica per esempio quest'altra e poi dopo quanto ci ho finito e di più voi siete stati bravi allora aspettate l'ultima non ve ne andate questa per esempio è una chiesa questa è una chiesa che vedete vicino a una chiesa a Tre Navate però è un pilastro solo centrale qui c'è il qui c'è il campanile che sale è un pilastro centrale è una chiesa molto ardita la sezione ad Appignano vicino Ascoli sopra il tronto insomma ecco e questa è la bella chiesa però allora oltre a certe opere di sostegno all'interno volevo fare una opere di sostegno esterna però mi hanno detto ma non ci piace la palcatura chissà quanto tempo rimarrà eccetera allora mi sono inventato una cosa di questo genere adesso vi farò vedere cos'è vedete l'interno sull'abside per tenere il campanile poi vedremo anche il campanile e cosa mi sono inventato questo aspettate no sta qui questo lo faccio vedere qua questo qui il campanile ha degli angolari ha angolari che sono poi controventati con funi eccetera però la cosa importante è la facciata vedete questi sono solamente fuori di ancoraggio perché il tutto è presollecitato il tutto è presollecito lo faccio vedere per intero si vanno ad ancorare a distanza laddove ancora le inerzie sono valide si ancorano a distanza e diventano elemento di placcaggio per intero e questa è l'opera provvisoria come vedete andando laterale si vede non è pesante per niente questo lo chiamo il tavolino vi faccio vedere da dove proviene questa esperienza vedete lateralmente sono andato oltre mi sono andato ad ancorare alle parti ancora inerzialmente stabili quindi è la stessa struttura cambia e sta cambiando il concetto di puntellamento il puntellamento che è quello classico triangolare che conosciamo la Sistema Stodicata che poi è quello che ha fatto storia in realtà sta cambiando si può e lo vedete all'Aquila dal 97 dal Palazzo dei Piori si vedono tutte cose che sono autosufficienti cioè la cerchiatura le travi che impacchettamento cose di questo genere quindi sta cambiando il modo di vedere questo è quanto e questo è il campanile e vi faccio vedere che cosa successe questo vi faccio vedere che cosa successe a che cosa successe Grazie. Ho finito. Ecco, qua. Qui cambia il mondo nel momento in cui ci accorgiamo che con le resine possibiche si può attaccare tutto quello che vogliamo. E con le perforazioni, in un quarto d'ora tu appendi, tiri, fai, eccetera. In realtà è verissimo, per esempio, un effetto di questo tipo, un effetto di legatura su una parete che sta a un'incombenza, no? Sta incombendo verso il basso, no? Vedete che basta trovare delle finestre per poterci ancorare. Questa parete ormai stava ribaltando, era da recuperare, l'ho attaccata al muro in questa maniera, no? Poi con dei golfari e questo è il mio aggancio. Forse ci andava un po' più di luce. Ecco, questa è una catterrale piccorina che aveva ricevuto il martellamento delle due navate laterali e quindi la facciata si era ribaltata. Campanile che è stato ricostruito, ma che vi faccio vedere prima, durante e dopo. Come vedete non c'è più. E il terremoto continua, chiaramente, no? Allora a questo punto cosa fare? Andare a cercarsi lontano le inerzie residue per tenere la facciata come in questa maniera andando con una piattaforma aerodinamica quindi che non crea pericolo perché non stai sotto i carichi, ma stai scostato creando un qualcosa che sia maneggiabile sempre in tutte le operazioni di movimentazione quindi questo è il modo per superare il rosone perché come nella chiesa di Appignano ci serve questo tavolino e poi andandoci a prendere, come vedete le pian piano perforazioni, vincoli sistemi autosufficienti dal punto di vista statico angoli e via fino lontano tutto sollecitato questi sono i disegni fatti sul posto il tavolino, l'angolo che abbiamo rivisto quello che abbiamo rivisto lì e tutto quello che vediamo quindi questa è un'altra di quegli esempi una parte che è stata pure recuperata questa del campanile che è stata ancorata in questa maniera con delle briglie qui per esempio due onde hanno avuto un conflitto qui all'interno del chiostro e ci sono quelle parti che stavano in espulsione all'interno fare una cravatta e legare così io ho terminato, vi ringrazio di esservi trattenuti su noi ovviamente ora è possibile fare delle domande però ovviamente sono al di fuori del momento dei crediti quindi per chi vuole fermarsi ancora noi ci siamo terro fermo qui Mariani no no noi ci siamo quindi se qualcuno c'erano dei dubbi dai fermiamo la diretta così si possono fare le domande grazie mille grazie mille